GF VIP 7, Dana Saber difende Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi poi a zero su Edoardo Tavassi, ecco quale VIPona gli piaceva davvero. Nei giorni scorsi Dana Saber è intervenuta ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione non succederà più in onda sulle frequenze di radio-radio. La modella di origini marocchine ha parlato dell'amicizia con Antonella Fiordelisi. Sebbene qualcuno le avesse suggerito di non legare con lei nella casa del grande fratello VIP, Dana Saber nel corso dell'intervista ha difeso anche Edoardo Donnamaria. Dana Saber invece ha sparato a zero su Edoardo Tavassi. Dana Saber ha poi rivelato che a Tavassi piaceva un'altra ex VIPona, Nicole Murgia. L'ex VIPona ha lanciato anche una stoccata agli autori. Dana Saber ha parlato di Micolin Corvaia. E su Daniele Dal Moro. Grazie. 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 Grazie.